Ruba bandiera! Un bullo che dà ai bimbi le caramelle per convincerli a fare quello che vuoi! Accidenti! E' malvagio! Questo è il mio urscello adesso! Io mangerò miliardi di cioccorotoli! Abbiamo finito i cioccorotoli! L'albero del baratto è a corto di merende! A corto di merende? I bimbi sono disperati! Saluti a voi! Io sono il re Xavier! Vuole darci le merende solo per farci fidare di lui, è malvagio! Abbiamo fame, Craig! E adesso i vori! Non ve ne pentirete! Il ruscello è spacciato! Che melodrammatico! Tutte le caramelle che riuscite a mangiare possibile! Un bimbo cattivo vi porterebbe un castello gonfiabile! Un po' di privacy per favore! Non puoi bandire un gioco solo perché non sei bravo a giocarci! In realtà posso bandire tutto quello che voglio! Questo è il mio ruscello adesso! Schiacciatrice, inizia a schiacciare! Non è giusto! Ecco le caramelle, ora siamo pari! Mia, ma dobbiamo trovare il modo di cacciare Xavier dal ruscello! Sembra sia il momento di una nuova missione! Io sono stato il primo re del ruscello! Le origini del ruscello! Sì sì sì, le origini del ruscello! Sfideremo al gioco in cui il vincitore si prende tutto! Ruba bandiera! Cos'è questo? La tua sponda contro la mia! Se vinciamo, tu e il tuo regno la smetterete di terrorizzare! E se vinci tu, io lascerò il ruscello per sempre! Ci sto, Craig del... Dov'è che giochi ora? In questa sfida ruba bandiera il vincitore si prende tutto! La galleria e il confine! I bambini presi sulla sponda opposta resteranno congelati per tutta la durata della sfida! Il primo a recuperare la bandiera e tornare sulla sua sponda governerà il ruscello! Ruba bandiera! Andiamo! Un tocco e siete marchiati! Vien loro! Ci siamo! Anche noi! Il re ci potrà prendere quassù! No! 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 Accidenti! Stavi dicendo? Si, Manny e i dieci manubri controlleranno il lag... Kelsey! Non fulminatevi! Ho tenuto l'ultimo fulmine per voi due! Verso il forte glitch! Io... Via libera! Via! Io andrò alla fortezza! Attento! Craig l'Agnello! Selvaggia! Perché mi... Mi... Piace! Nooo! Nooo! Oh! Padre con te! Padre! 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 Un tocco e resterai congelato! Sono venuta per provare a fermarti! Il bullo che dà ai bimbi le caramelle per convincerli a fare quello che... Oh! Oh! Ehi, Craig! Ti serve un passaggio? Fatti da parte! Ma non posso... Il poncio verde originale! Oh! 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 Oh!